Forti piogge si sono abbattute negli ultimi giorni in Germania, in Repubblica Ceca e in Olanda. Nelle regioni tedesche della Turinja e della bassa Sassonia, gli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case il giorno di Natale a causa delle forti piogge che hanno provocato l'innalzamento del livello dell'acqua e conseguenti inondazioni. Stato di massima allerta anche in alcune regioni della Repubblica Ceca. Secondo le autorità locali, a causa delle forti piogge degli scorsi giorni, ma anche dello scioglimento dei ghiacci, si è verificato un innalzamento del livello dell'acqua di fiumi e torrenti. A Praga è entrata in funzione la barriera antialluvione sul torrente Certovka e sono stati chiusi marciapiedi lungo il fiume Moldava. Particolarmente alto il livello dell'acqua nei Paesi Bassi, soprattutto nelle aree che costeggiano i fiumi.